forza napoli saluto da due news e gianmarco giuliano ottima vittoria ottima vittoria del napoli contro la juventus 2 1 al maradona devo essere sincero non me l'aspettavo perché perché ogni volta che c'è da buttare giù la juventus non so può essere l'anno scorso buttarla fuori dalla champions oppure in tante partite importanti il napoli bene o male riusciva sempre nella grandissima impresa di fallire va bene stavolta è andata bene è andata bene anzi abbiamo anche recuperato una partita che si era messa in maniera complicata dopo l'errore di mano lass però la squadra ha tenuto bene il campo ha mantenuto soprattutto quella calma che già avevamo visto nelle partite contro il venezia e contro il genoa mantenendo questa calma essendo cosciente della propria forza è riuscita anche questa volta a venire a capo della partita rimontarla e vincerla meritatamente perché poi i dati statistici sono tutti a favore del napoli naturalmente dobbiamo dire che c'è da parlare delle assenze della juventus tantissime assenze che questo calendario assurdo delle nazionali ha danneggiato sicuramente i bianconeri devo dire la verità è ogni tanto stacchiamola questa spezziamola questa lancia a favore della juventus nessuno da parte della direggenza juventini e nei giuventini eppure allegri si è lamentato delle assenze quindi bisogna riconoscere anche questo merito alla juventus che però sembra molto indietro rispetto alle altre soprattutto non solo dal punto di vista di gioco ma soprattutto il centrocampo mi sembra decisamente inferiore a quello delle juventus diciamo di allegri da sottolineare anche un'altra cosa perché non ci credevo soprattutto dopo il loro di manolas io avevo sempre in testa le partite del napoli di sarri contro la juventus di allegri dove 70 per cento di possesso palla tiri da parte di napoli controllo totale della partita bene la juventus di allegri era capace di non sbagliare nulla in quelle partite e se non si sbaglia nulla si sa bene che gol non se ne subiscono e le partite si vincono e molto spesso la juventus vinceva con il golletto così e napoli sciva sconfitto ieri è stato praticamente ieri l'altro ieri ormai sono passati due giorni è stata l'apoteosi degli errori quindi non tanto i meriti da parte delle due squadre di andare in gol quanti dei meriti nel far andare in gol sia il napoli che la juventus va bene detto questo però il vantaggio che il napoli ha avuto in questa partita per la mancanza dei giocatori sarà comunque apparato diciamo a napoli al ritorno perché al ritorno come sappiamo mancheranno i tre giocatori che stanno diventando fondamentali nel napoli per la coppa d'africa ovvero culibali l'ottimo anghissa migliore in campo ne parlerò tra poco e purtroppo anche osimeno questo napoli è partito un po affari spenti perché in serie si parla del milan che batte la lazio la solidità del milan che ha mantenuto l'allenatore si parla si è parlato la settimana scorsa della grande lazio di sarri che poi è caduta si parla della corsa di murigno sotto la curva con la vittoria al novantunesimo bene il napoli continua affari spenti affari spenti però mantiene la sua solidità bene io preferisco continuare così affari spenti continuiamo così poi nelle prossime due partite contro dinise e sampdoria tra l'altro a distanza di pochi giorni perché ci darà anche il turno infrasettimanale sarà il vero banco di prova per la squadra di spalletti in campi comunque difficili dove verrà messa alla prova veramente la solidità della squadra un'ultima cosa che vorrei dire sono anche volte il campionato di calcio è segnato da eventi da episodi favorevoli e sfavorevoli ci ricordiamo tutti qualche anno fa la partita a torino juventus napoli dove dopo la rimonta il 3 a 3 del napoli ci fu il clamoroso autogol proprio di culibali che fece perdere la partita al napoli quest'anno invece gli episodi sembrano un po non lo diciamo eh non lo diciamo che poi dalla prossima partita sicuramente cambia tutto vabbè lasciamo un po di scaramanzia ma sembra andare anche un po a favore del napoli è vero che l'espulsione di osimen nella prima partita era diciamo era un episodio che veniva dopo un rigore non dato ok questo è da dire però comunque il napoli si è ripreso 10 contro 11 ha vinto comunque la partita a genova è stato dato un gol non convalidato certo c'era ci poteva stare il fallo su meretta ma comunque parliamoci chiaro se avessero dato il gol a pandev e il pareggio del genoa cioè non è che qualcuno si poteva scandalizzare e ieri comunque contro la juventus alla juventus mancavano dei giocatori molto importanti quindi che naturalmente poi gli errori della juventus che hanno portato ecco ai gol del napoli bene tutto questo significa che finalmente forse c'è qualche cosa che gira anche a favore del napoli e questo alla fine l'economia del campionato conta sempre va bene manteniamo comunque i piedi per terra c'è l'ultima cosa giustamente come non si parla della partita con lecce sì ma devo essere sincero quest'anno per il napoli è importantissimo raggiungere i primi quattro posti i soldi della qualificazione champions sono fondamentali ma guardate non fondamentali per migliorare la squadra saranno fondamentali per mantenere il napoli a un certo livello perché lo ripeterò sempre il napoli l'anno prossimo porterà in scadenza insigne fabia ruiz mertens gulam e ospina vi dico che sono giocatori che difficilmente vedranno il contratto rinnovato con i parametri che si è dato dell'aurentis per quanto riguarda appunto gli ingaggi quindi attenzione senza i soldi della champions il ridimensionamento l'anno prossimo sarà clamoroso quindi gustiamoci questo napoli portiamolo anche noi tifosi andando allo stadio e tifando alla grande e l'obiettivo lo ha segnato culibali con la macchina fotografica quando ha inquadrato i tifosi subito ecco l'obiettivo è quello riportare le persone a tifare napoli dimentichiamoci di napoli verona purtroppo sarà una macchia che durerà per sempre ma adesso portiamo questi ragazzi avanti perché vedo molta solidità e vedo giocatori cresciuti su un punto di vista proprio mentale e prima e proprio calidu culibali che sta prendendo le retini della squadra avevamo bisogno di persone come queste di lui e di anghissà che dopo tre giorni è arrivato a napoli si è messo in campo ha dominato al centro campo e ha fatto giocare anche meglio fabio rus forse avevamo bisogno anche di un giocatore come questo detto questo vi saluto e forza napoli da parte di due news e gianmarco giuliano buona giornata a tutti